Se questo cambia anche il framework, io lo chiedo al professor Carlo Filippucci, se ci può aiutare, cambia un po' anche la teoria dell'analisi della qualità in questo contesto? Intanto ringrazio per l'invito, ringrazio anche Gigi perché mi ha detto molte cose che avrei anche voluto dire io e quindi mi consente, se mi permettete, vista anche l'ora, di dare, così, di usare qualche intemperanza nel rispondere, a cominciare dalla dichiarazione molto esplicita del fatto che, insomma, intanto sarebbe stata utile una tavola rotonda in cui non persone che si trovano d'accordo su un argomento discutono, ma sarebbe stato utile discutere con le persone della tavola rotonda precedente. Beh, insomma, io in quell'occasione, sentendoli, devo dire che qualche, appunto, insofferenza l'ho dimostrata. Perché? Per carità, la questione dell'evoluzione della tecnologia è fondamentale, qui nessuno sta negando, anzi, io credo di occuparmi di uso di dati amministrativi da quasi trent'anni. Cominciai con le vecchie indagini della RICA, forse qualcuno se le ricorderà. Bene, ma quello che mi dava un po' fastidio di tutto il ragionamento è il fatto che sarebbe, faccio un esempio, sarebbe come dire che la scoperta del microscopio elettronico ha rovesciato i paradigmi della scienza. Questo ci è stato detto poco fa, cioè il fatto che disponiamo di grandi quantità di dati ci pone di fronte a un nuovo paradigma, a un nuovo modo di produrre conoscenza. Questo vuol dire. Beh, per me non è così, perché appunto il microscopio elettronico non ha cambiato il modo di fare scienza, ha cambiato i risultati della conoscenza. Va bene. Questo è un punto cruciale per questa discussione, perché non c'è dubbio che siamo assolutamente di fronte a un cambiamento di disponibilità di informazioni. Io, fra l'altro, preferisco parlare, preferirei parlare più che di big data, preferirei parlare di due cose diverse. Vado con due approssimazioni. Prima parlerei di parlare di big sources of possible data, cioè noi non stiamo parlando di dati quando parliamo delle cose che abbiamo visto nella tavola rotonda precedente, noi parliamo di possibili fonti che possono generare dati, informazioni statistiche, conoscenza. Insomma, non lo devo dire qua che un'informazione non è una statistica, che è prodotta con modi e finalità diverse. Lo dobbiamo però ridire, perché sentendo dire dentro questo istituto le cose che ho sentito prima, io sento il bisogno di ribadirlo, con forza. Perché altrimenti noi stiamo veramente correndo il rischio, di cosa che sta succedendo in molti luoghi, peraltro, di vedere questa confusione fra informatica, gestione dell'informazione e statistiche sempre peggiorare. La seconda cosa che volevo dire, non userei neppure la parola big sources, ma userei piuttosto un'altra parola e parlerei di diluvio, come molti hanno già fatto e come ho fatto anch'io qualche anno fa, perché appunto il diluvio dà l'idea del rischio di affogare. E questo è un po' il rischio che si può correre appunto di fronte a questa grande quantità di dati. Beh, Gigi prima ha detto molte cose a riguardo, che io appunto ho detto condivido, vorrei dirne qualcosa a qualcuno anch'io, qualche problema anch'io, e poi vorrei arrivare alla questione del framework entro il quale si può ragionare quindi di qualità. È evidente che, è evidente a tutti, lo dicevo prima appunto, che disporre di un'informazione non significa evidentemente disporre di una statistica. Un punto non è stato sottolineato secondo me, che le categorie che vengono utilizzate generalmente sono categorie, nel caso di un'indagine statistica, che rispondono a definizioni molto precise ed estremamente difficili da comprendere da parte delle persone. Ricordo molti anni fa nel Current Population Survey negli Stati Uniti, si fece una pre-indagine per definire il modo di formulare la domanda circa il fatto di avere o non avere lavoro, circa il concetto di lavoro, e ci vollero moltissime interviste, ci vollero circa un anno e mezzo al Bureau of Labor Statistics per arrivare a formulare la domanda definitiva. Perché il concetto di lavoro, quando si lavora, non è chiaro, richiede una quantità di specificazioni enorme. Voglio citare ancora, sempre per rimanere, e quindi qual è l'informazione sul lavoro che noi possiamo ricavare se non abbiamo chiarito qual è il concetto di lavoro che chi risponde a domande che riguardano il lavoro ha utilizzato. E ancora, c'è un altro problema che caratterizza le fonti amministrative, c'è evidentemente la discontinuità delle fonti, c'è un problema qui che è cruciale, che nessuno ha affrontato, credo, è il costo dell'errato uso di una fonte amministrativa o di una fonte non strettamente statistica. Cosa voglio dire? Voglio dire che noi possiamo decidere a un certo momento di usare i dati fiscali, per esempio, fonte estremamente importante, fonte che viene usata. Ma se le modalità con cui si raccolgono i dati sul reddito e quindi sulla tassazione cambiano in continuazione, come succede nel nostro paese, in termini di detrazione, in termini di aliquoti, in termini di soglie, oltre le quali si fanno le dichiarazioni o meno dei redditi, noi rischiamo ogni volta di dover ridesegnare il modello col quale utilizziamo quella fonte amministrativa, con costi assolutamente non trascurabili. C'è cioè un problema quando si decide di usare una fonte amministrativa che è la stabilità, la coerenza di una fonte amministrativa in un arco temporale ragionevole che giustifichi l'investimento nell'utilizzo di una fonte amministrativa al posto di un'indagine. Ci è stato, ci è anche forse un po' trascurato l'enorme, qualcuno l'ha citato, forse lo stesso Gigi, l'enorme potere di condizionamento che risulta dall'uso di fonti per le quali non è chiaro la finalità conoscitiva per cui vengono costruite. Cosa voglio dire? Voglio dire è chiaro a tutti che trovarsi di fronte a un numero evidentemente sembra, e questo si è visto anche stamattina qualche ragazzo lo diceva quando sono stati interrogati sull'affidabilità delle informazioni su Google, sembra ritrovarsi di fronte a un fatto oggettivo, il numero di per sé ha un contenuto feticistico ovviamente. Bene, allora cosa succede di fronte a un'enorme pluralità di produzione di dati e anche di produttori evidentemente, che possiamo trovarci di fronte a informazioni cruciali, importantissime, di fronte a più versioni relativamente allo stesso tipo di informazioni, a più dati relativamente allo stesso tipo di informazioni. Avremo cioè più tassi di occupazione, più tassi di disoccupazione e così via. Verosimilmente molti produttori, molte fonti, molti utilizzatori di dati possono indurre a produrre ognuno un proprio tipo di dati. Le banche possiedono enormi basi di dati, varie istituzioni che sono state reportate possiedono enormi basi di dati, molte grosse società, penso a Google, penso a Oracle, penso a Microsoft, stanno investendo enormi quantità di denaro per non solo produrre le informazioni ma per utilizzarle, questo significherà una presenza di concorrenti, fra virgolette, al sistema statistico ufficiale, con il rischio di avere una pluralità. Qual è il problema di questo? Beh è un problema in fondo di, beh no, abbiamo più informazioni, meglio così decidiamo. No, il problema che si nasconde dietro a questo e non è trascurabile, è il venire meno del fondamentale ruolo giocato dall'informazione quantitativa che è quello di costituire una base di conoscenza comune, altrimenti ognuno può dire quello che vuole. Va bene, se noi diciamo che il PIL cade e qualcun altro dice che i ristoranti sono pieni, signori, che cosa dobbiamo fare? Allora ci vuole un sistema coerente, interpretativo, all'interno del quale i numeri abbiano un significato uguale per tutti, altrimenti la forza, altrimenti la forza della conoscenza quantitativa viene messa in discussione e facciamo un grosso salto indietro. Il ruolo fondamentale della statistica, di un sistema statistico è proprio questo, ma pensate a cosa hanno fatto le Nazioni Unite con il sistema di conti nazionali, era quello di cercare di costruire un sistema comune di riferimento per comparare nel tempo e nello spazio, evidentemente. La statistica ha questo ruolo, eliminare la discussione puramente ideologica e metterci di fronte a un insieme di fatti condivisi, condivisi per decidere. E questo mi porta a un altro punto che è estremamente importante, non tutti i fatti hanno la stessa finalità, non tutte le evidenze empiriche hanno la stessa finalità, abbiamo evidenze empiriche finalizzate al governo di una società, non dico dell'economia ma al governo di una società, cioè hanno una rilevanza tendenzialmente macro e abbiamo molte informazioni che hanno una rilevanza tendenzialmente micro, che riguardano il singolo, il suo comportamento nel microcosmo. Insomma, noi dobbiamo capire che sono finalità diverse e non tutte le fonti possono concorrere a questo. Quindi credo di avere argomentato abbastanza che il problema non è una critica all'uso di fonti non strettamente statistiche, il problema non è sfruttare l'enorme potenzialità di basi di dati, di basi di informazioni che potremmo avere, il problema è, semmai, come sempre, è che la conoscenza può anche scaturire qualche volta nuovi punti di vista dall'osservazione, come sempre è stata nella storia dell'umanità, ma l'analisi segue sempre la sintesi, cioè un momento di razionalizzazione nella quale uno schema concettuale ci aiuta a interpretare e a capire, a semplificare la rappresentazione della realtà. Che cos'è la conoscenza, che cos'è una teoria se non una semplificazione della realtà? E noi vogliamo semplificare, non possiamo annegare in questo caso nella marea delle informazioni. Quindi vengo alla seconda parte del ragionamento, cioè è un lavoro veramente grosso da affrontare su questo piano ed è un lavoro particolarmente significativo per l'Istat, perché l'Istat in questo contesto, in questa situazione rischia moltissimo, rischia di essere travolta, rischia di essere sostituita, rischiamo di avere un sistema statistico che si frammenta. Ecco perché su questo l'Istat deve investire moltissimo, deve riflettere moltissimo e deve ragionare su quali sono le categorie della qualità. Che cosa vuol dire qualità? La qualità, come sappiamo bene, ha tante dimensioni, sono molte le dimensioni della qualità, ma il punto non le voglio ripetere, qui non voglio fare del tecnicismo che non è il momento, ma certamente le dimensioni della qualità nel contesto in cui ci troviamo cambiano, perché una volta la qualità di una fonte si concentrava sulla sua tempestività, sulla sua pertinenza, sulla sua, come si suol dire, accuratezza e così via. Oggi abbiamo un altro problema, abbiamo il problema che ricordava prima Gigi, cioè il problema prima di tutto della certificazione del soggetto che produce delle informazioni. Questo è un dato, quindi ci pone un problema di qualità della fonte e dei criteri secondo i quali giudicare della qualità di una fonte. Io ho provato a scrivere quest'anno sulla rivista Statistica qualcosa al riguardo, quindi non mi dilungo più di tanto. Naturalmente cambiano anche le dimensioni della qualità, così come l'abbiamo intesa per un'indagine Statistica, quando andiamo a valutare la qualità di un dato amministrativo. Sono diverse le dimensioni, l'accuratezza non ha più senso quando parliamo di un dato amministrativo nell'immediato, poi quando l'utilizzeremo si pongono i problemi che diceva appunto Gigi e sono perfettamente d'accordo. Bene, allora è chiaro che dobbiamo definirle e concordare su queste qualità, dobbiamo definire uno standard. È qui che l'Istat torna a riapproparsi di un ruolo fondamentale. Perché? Perché si deve proporre come quel soggetto che detta gli standard per definire che cosa si debba intendere per qualità di una fonte, per qualità di un dato, per qualità di un processo produttivo. E rimane l'ultima questione fondamentale. La questione è che la qualità non è soltanto un problema di qualche indicatore, di un qualche metadato, la qualità non è soltanto il problema di farci sapere qual è stato il tasso di risposta o meno. Il problema cioè non è quello di intervenire a posteriori su una fonte, su un'informazione, ma è quello di entrare nel merito del processo produttivo. Questo apre un'altra questione di fondo. Se si vogliono utilizzare dati amministrativi è difficile immaginare che non ci sia un sistema statistico all'interno del quale, anche alla luce della legge che è stata emanata recentemente, che apre qualche spiraglio in questo senso, all'interno del quale non ci sia la possibilità di una collaborazione tra statistici e produttori di dati amministrativi nel momento in cui il processo di produzione del dato amministrativo a luogo. È lì che avviene il momento, è lì che si può controllare larga parte della distorsione. A posteriori si possono usare altre tecniche, ma saranno tecniche che ogni volta devono essere messe a punto. Occorre intervenire sul processo di produzione. Ma questo non è una novità, lo sappiamo nelle conferenze sulla qualità, si sta raccontando da almeno dieci anni questo tipo di ragionamento. E su questo invece, pur essendoci noi riempiti molto alla bocca di qualità, abbiamo fatto poco. Un sistema di gestione della qualità per quanto riguarda le indagini e un sistema di gestione della qualità che deve essere proposto anche a soggetti non pubblici è un terreno assolutamente fondamentale. E per questo ci vuole un sistema informativo, ci vuole una rifondazione del system nel quale appunto si possa definire la possibilità di delineare criteri per valutare la qualità di una fonte e intervenire sul suo processo di produzione. Grazie per l'attenzione. Grazie al professor Filippucci anche per averci portato con enfasi sui fondamentali, quelli che almeno io gioco a pallacanestro e quindi si chiamano i fondamentali, cioè l'ABC del gioco. Sono tante le sollecitazioni e magari abbiamo tempo appunto per riprendere negli altri interventi. Una cosa mi premeva dire proprio sullo spunto conclusivo, quello della qualità delle fonti, è vero che il decreto di riordino dell'Istat dà all'Istat un importante nuovo ruolo in questo senso e anche degli strumenti che sono stati organizzativamente implementati costituendo una commissione permanente che ha i produttori delle informazioni amministrative e i detentori degli archivi e che deve andare proprio nella direzione auspicata dal professor Filippucci, cioè nell'andare a definire innanzitutto a documentare con sistemi informativi adeguati l'esistenza delle fonti amministrative e poi fare un passo verso la definizione della qualità delle fonti. Credo che però su questo non siamo ancora del tutto pronti dal punto di vista metodologico ad esempio, non abbiamo sufficientemente sviluppati sistemi che valgono molto bene o comunque funzionano molto bene per il modello tradizionale di produzione e di informazione di statistica e che invece sul fronte dei dati amministrativi appunto hanno delle carenze.